Burocrazia esagerata, difficoltà di accesso al credito, normative complesse. È lo scenario che affrontano le piccole imprese che si rivolgono ai bandi europei. L'Europa in realtà in questo momento di crisi economica è un'importante fonte di finanziamento. La Banca Europea degli Investimenti ha prodotto un pacchetto di incentivi per le aziende che investono sull'innovazione tecnologica, ma è essenziale che queste imprese sappiano cogliere le opportunità offerte. Molti di questi progetti sono già recepiti nei bandi che periodicamente la regione Lombardia mette a disposizione delle imprese. C'è un bando molto importante sostenuto da FinLombarda che è la finanziaria della regione a favore delle imprese. Sono parecchi milioni di euro disponibili e altre opportunità invece possono essere colte mettendosi in rete tramite la regione Lombardia con altre regioni europee. Bergamo chiama, l'Europa risponde, ma non sempre questa attività comunicativa tra le istituzioni è semplice e lineare. La comunicazione tra l'Europa e i territori è scarsissima. L'Europa è una grande realtà che vive Bruxelles, che fa di tutto per farsi comprendere. È per questo che la regione è un partner importante che l'Europa riconosce. La regione Lombardia, grazie alle sue eccellenze in ricerca e innovazione, riesce ad aggiudicarsi l'80% dei bandi a cui partecipa, ma solo due terzi dei fondi vengono effettivamente impiegati. Ci sono dunque margini di miglioramento e per questo l'Assemblea legislativa della regione ha presentato Enterprise Europe Network. L'Europa non decide per leggi, il Parlamento europeo non fa leggi, adotta delle risoluzioni. Se lì ci sei nella fase ascendente del processo e fai valere le tue ragioni e ti organizzi, è chiaro che conti, se no subisci. Un esempio concreto di questa necessità è la realizzazione di un'area europea alpina. Per noi fasce pedemontane è assolutamente importante perché diventa un contenitore istituzionale dentro il quale far confluire i nuovi aiuti europei del settennio 2014-2020. Grazie a tutti.